Andiamo alla presentazione della terza e ultima semifinale dei 60 ostacoli allievi. corsia 1, Alessandro Cecchini, sono atletiche, no, Martes e Vicentino, corsia 2, Daniele Proverbo, società atletica per il sacro, corsia 3, Andrea Paccia, atletica Livorno, corsia 4, Lorenzo Perini, no, c'è stato uno di questi, corsia 5, Gabriele Anciatone, Fusco Rizzo, corsia 6, Mattia Pottini, Roberto e Sernandes, Livorno, corsia 7, e a tutti i corsi, spettacolo, corsia 8, Andrea Pettaci, provate a vostre stelle in seguito. Grazie. 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 Le semifinali dei 60 ostacoli promesse, due, 14.40 e 14.45, le due semifinali dei 60 ostacoli promesse, 14.40 e 14.45. il perini non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo